Musica Pur non potendo intervenire a questa festa mi è stato chiesto di dire alcune cose su il significato, il senso, il valore, questa presenza di uno spazio dedicato all'agricoltura, la neoagricoltura dentro la festa di Selle. È interessante questa cosa, è importante perché significa, soprattutto facendo qui la festa, che succede una cultura all'altra, che riemerge dentro la cultura industriale e la cultura dell'urbanizzazione, un'altra voce che è stata repressa proprio da questo sviluppo, per questo è una parte grave, malata e anche sanguinosa di questo sviluppo, è stata soppressa la vitalità, la centralità dell'agricoltura e il suo ruolo storico, cioè quello di costruire territorio, di governare i cicli e via dicendo, oltre a quello fondamentale del produrre cibo, che è tanto importante in questo momento in tutto il mondo. Questo quindi è un punto di partenza che bisogna direttamente presente quando si vedono, si sperimentano, si gioca, anche oggi ci si diverte con le pratiche della neoagricoltura, col cibo, con i materiali, con l'esperienza del territorio agricolo e via dicendo. C'è un grande significato dietro che dà dignità, forza e futuro a queste che sembrano piccole cose. E questo appunto, in questo ambiente, in cui si gioca la partita, si vede fisicamente che si gioca la partita tra una cultura e l'altra e riemerge in una nuova cultura. Ecco, c'è anche un altro aspetto però che vorrei sottolineare, tutte queste pratiche sono nate sostanzialmente dentro la cittadinanza attiva, non sono nate dal pubblico, non sono nate dall'alto. La neoagricoltura nasce dall'esperienza di filiera corta, del rapporto tra i gas, i distretti, il processo di economia solidale, il commercio eco, tutte esperienze di pratica sociale. Ora siamo arrivati anche a un punto in cui queste cose, diventando così importante e centrale il tema strategico, tutte queste cose evocano, richiedono l'entrata in campo di politica pubblica. E chi si parli all'interno di una forza politica di questo significa che ancora si è accorti che questo discorso sta marciando in questi termini. Allora vedete oggi presenti gas, esperienze contadine, altri che rappresentano le altre pratiche di commercio ecosolidale, ma vedete anche che ci sono ad esempio evocate alcune altre dimensioni come quella di Milano Ristorazione per esempio, che significa una grande domanda pubblica e dovrebbe incontrarsi con i codici di queste esperienze sociali, con il marchio e la linea di queste esperienze sociali dovrebbe incontrarsi con la neoproduzione di qualità locale e ambientale. Un incontro, questa è una politica pubblica sulla quale dobbiamo spingere assolutamente, ma c'è anche il rappresentante del Parco Sud, il Parco Sud è stato a lungo un parco come gli altri sostanzialmente, non è stato investito di questa tematica in maniera forte nonostante che si chiami agricolo, questa è un'altra dimensione delle politiche pubbliche che riguarda i fondi europei, riguarda i piani di sviluppo rurale e via dicendo. Ecco, questo quindi è il nodo che dobbiamo sottolineare essendo questa una festa di una forza politica. Naturalmente nulla di tutto ciò può essere in campo se si può sviluppare, se si dimentica la radice da cui questa cosa è nata, quindi il tema dell'interazione sociale, del rapporto tra politica pubblica e la cittadinanza attiva è il nodo pregnante che anche in questo caso qui viene evocato e questo mi sembra altrettanto importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!